Ops a tutti, mi cari Upsini, Upsini, come state? Come state? Spero veramente, veramente bene. Oggi, perché sono qua? Sono qua per fare solo per voi questo nuovissimo video dove mi prendo un po' cura di te. Quindi, in poche parole, cosa farò? Ti toglierò un bel po' di brutti pensieri per cercare di farti rilassare e stare meglio. Ti farò qualche carezza molto molto easy, molto soft. Quindi, mi raccomando, prima di cominciare, indosso un paio di cuffie auricolari, stenditi sul tuo letto e cerca di chiudere gli occhi, va bene? Perfetto. Scusate se mi vedete non avvicinarmi troppo alla telecamera, ma è sempre questa paura per le luci che mi sfocano, mettono la luce male. Poi, con l'azzurro, che è un colore freddo, che è un colore difficile da gestire, tutto un caos. Non sembra, ma il dietro le quinte di ogni video è qualcosa di veramente impossibile. Comunque, prima di iniziare a togliere i tuoi pensieri, applico questa pozione magica per cercare di farli uscire fuori. uscire fuori, in modo che dopo saranno più facili da tirare via, a tirare via. Spruzziamo un pochino, spruzziamo un pochino. Pronti? Vai, allora, spruzziamo non troppo. Puff, 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 puff. Rilassati, rilassati, puff, puff. Puff, puff. Ok, dai. Secondo me può bastare, solo un attimino facciamo un po' di scratch sulla tua testa così per far aderire meglio questa pozione. Mi sembra tutto a posto e ho preparato questo piccolo pettine qua, che ci aiuterà un po' a sistemare i pensieri da estrarle, un po' stesso a estrarle per quando ne vogliamo prendere un po' di più, però adesso casomai l'uso un attimino per pettinarti così, così, un po' qui in basso così, 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 sì sì così, perfetto ok, però questo lo usiamo dopo, che ne dite? Sì, adesso è arrivato il momento di estrarre i pensieri, perciò adesso tu chiudi gli occhi, rilassa bene il collo, le spalle, proprio rilassate, devo stare rilassate, devo stare rilassate, perfetto, quindi chiudi gli occhi e io cosa farò? Prendo un pensiero, e poi, sac, lo taglio, perfetto, adesso lo rifacciamo. Lo rifaremo per un po' di volte, perciò tu pensa soltanto a rilassarti, a tenere gli occhi chiusi, va bene? Adesso lo prendo di qua. tutto a posto, ti senti bene? Perfetto, e allora continuo, non ti preoccupare, va bene? Ok, allora, vai in tutto a posto, ti senti bene? Perfetto, e allora continuo, non ti preoccupare, va bene? Ok, allora, vai in poi ne prendo un altro, lo prendo d'acqua, e zac, ok. E adesso è ancora un po' presto per chiederti se inizi a sentirti un po' meno pesante. da questi brutti pensieri, ma troppo fidati, fidati, che ti sentirei proprio più leggero, poco leggero. ok, ricominciamo subito, proprio qua davanti, lo prendiamo, 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 e zac. Scusate se tante volte non guardo proprio dentro la telecamera ma guardo dietro, mi piace spontaneo. Adesso proviamo con il pettine a prenderne qualcuno, mamma mia non si vede quasi sulla mia maglia che è nera, perciò con la punta, questa parte qua del pettine, li prendo e ti prendo e tiro, 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 tiro. Perfetto, provo anche di là, sempre con la punta, li prendo e tiro, 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 tiro. E zac, perfetto, adesso lo possiamo, lo prendiamo dopo di nuovo. Quindi dai, ti ho già tolto un po' di pensieri. Secondo me sì. Come ti senti? Un pochino meglio. Va bene. Adesso vorrei massaggiarti un po' la testa, capito? Per farti proprio rilassare e riuscire quindi a tirare fuori poi tutti gli effettivi pensieri. Magari dopo sbruzzo ancora un pochino di quella pozione magica. Quindi tu come sempre tieni gli occhi chiusi. Io ti massaggio gli angoli della testa qua, va bene? Quindi prima quello sinistro di qua. Perfetto. E poi quello destro, quello destro. Perfetto. Perfetto. Adesso spruzziamo ancora un pochino di questa cosetta qua. Poco poco, eh? Due spruzzi di qua. E due spruzzi di qua. E chiudiamo. Perfetto. Adesso prendiamo altri due pensieri. C'era uno qua. Preso, 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 adesso da questo lato ne vediamo qualcuno si, proprio, proprio lo togliamo, lo tiriamo via, lo tiriamo via, lo tiriamo via, lo tiriamo via, lo tiriamo via e zacc via, li mandiamo proprio, proprio, proprio via ok come ti senti da posto? è perfetto rilassa bene il collo e le spalle, proprio qua e io ne vedo altro qua, di pensiero, qui in basso, quasi non si vedeva eccola, 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 eccola sacca perfetto perfetto invece, non lo so, cerchiamo un po', ce n'è qualcos'altro, proviamo a grattare un pochino a grattare, 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 gratt Riprendo un pochino il pettine e cosa facciamo? Che lo bastiamo un pochino qua sulla testa, così, un pochino qua sulla testa. Facciamo anche dall'altra parte, un pochino qua sulla testa, così, esatto. E magari prendiamo qualche altro brutto pensiero. Qua... preso, 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 preso e zac. È un pochino scomodo da utilizzare il pettine, però prende più pensieri, quindi tu ti dovresti sentire sempre un po' più leggero, leggera. Ti senti più leggero o leggera dai brutti pensieri? Sì, spero proprio di sì, spero proprio di sì, proprio di sì. Ok, dai, togliamone ancora qualcuno. Facciamo come prima un po' di scratch, 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 scratch. Facciamo un bel po' di grattini, 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 così per far uscire i pensieri poi ne prendiamo uno. Perfetto. Dai, prendiamolo un altro qui. Questo qua, questo qua, questo qui, lo prendiamo, lo tiriamo, lo tiriamo, lo tiriamo per farlo staccare. Poi zacc, lo tagliamo e lo soffiamo, lo soffiamo, lo soffiamo, lo soffiamo, lo soffiamo, lo soffiamo. Quindi come ti senti? Spero che tu stia meglio rispetto a come eri prima, dai. Facciamo così, ne tolgo ancora qualcuno e poi ti faccio ritornare a dormire, va bene? Dai, ancora solo qualcuno. Qualcuno ancora di grande e pesante che proprio ti fa stare male, va bene? Tipo c'è questo qua, qua al centro, lo vedo, questo qui. Tiriamolo via, tiriamolo via, tiriamolo via, tiriamolo via, e zacc. Proprio lo togliamo, non ci interessa, via, 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 via. Adesso invece prendiamo questo che c'è di qua, sì, 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 questo va proprio tolto, questo va proprio, proprio, proprio tolto, perciò zacc. Ok, dai, secondo me abbiamo tolto abbastanza pensieri per oggi, che ne dici? Lo vedo dal tuo colo, dalle spalle, che ti sei proprio rilassato, rilassata, quindi ha funzionato. Non senti più tutto questo stress che ti si accumula, perché in queste prime settimane si è proprio accumulato un bel po' di stress, non hai avuto modo di rilasciarlo, ecco. Però l'ho fatto adesso, quindi sono felice per te, sono felice per te. Perciò non ci resta che salutarci, quindi cuckoo, cuckoo, adesso tocca a te. Iscriviti al canale cliccando il tasto rosso qua sotto per entrare a far parte della OOPS community. Poi, lascia un bel like se il video ti è piaciuto e commenta qua sotto con tutto quello che ti passa per la testa, va bene? Il video di oggi finisce qui, purtroppo, quindi io ti lascio per restare sempre insieme a me. Qua il mio video precedente, qua una mia playlist e qua in basso il tasto per andare sul mio canale e vedere tutti i video che tu farai. Tutti i video che tu farai, quindi non aggiungo altro, è arrivato il momento di andare a dormire, perciò un bacio e buonanotte. Buonanotte, 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 buonanotte.